ok ciao a tutti dopo i nuovi sblocchi parto a fare un'altra missione giovedì 8 agosto 3.51 dobbiamo imparare ah ho staccato ok grazie ingresso in area sicura allora quest'arma qui 900 colpi al minuto è un po' meno precisa è un po' meno stabile nel mod binario ottica corta mi interessa caricatore 5.56 slot laterale volata calibro e dove la fabbrica questi soldi prezzi bassi grande selezione è questo che ti offro posso fare niente per te arma vuoi creare un progetto selezionando lo schema mostra le risorse ehi cerchi qualcosa in particolare freno di volata ampio 9 mm però arrivederci e ormai è questa qua allora famas non è un 9 mm sicuro calibro 5.56 tutte e due uguali quindi devo trovare un venditore allora devo andare in quegli sblocchi che ho trovato qui i rifugi può essere andiamo qua unirsi a ecran e crearelli fortuna che sei dei nostri stò arrivando ascolto per cui danno di cali e 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 Finora 20 forri non ne vedo. No, una ginocchiera a otto, più due undici salute, beh salute serve. Stiamo a fermi così, vediamo lo scudo com'è, poi uso la pistola, non c'ho il mitra, non c'ho il mitra, non c'ho il mitra. Noi fatemi andare avanti, facciamoci le missioni, va. Missione secondaria, secondaria, secondaria. Cos'è questo? Un rifugio. Va bene, facciamoci una missione secondaria. Alcune Iene hanno messo le mani su una cassa shade, l'hanno portata in un hotel che usano per organizzare la roba che depredano civili e fazioni nemiche. Recuperala e riportala alla Casa Bianca. Razioni vicine. Avamposto alleato vicino. Scorte vicine. Chi vuoi derubare? Questa roba è nostra. Questo è il Famas, ora proviamo l'altro. C'è qualcun altro della divisione? Aspettate, prendo le ultime. Sì, ce la possiamo fare. Dispositivo portatile rilevato. Non so come quasi? Ah, pure! Non so come. Non so. Sicuramente. Non so come? Non c'è. Non so come? Non so come. Un bel caldo. Non so come questo. Un bel caldo. Ecopsiamo lontare. Non so come questo. scorte rilevate è fantastico averti in squadra grandi notizie ormai scorte di cibo rilevate tu e peter vi frequentate molto eh? e quindi? è solo un poco di buono poco di buono? Dio che cosa da me è imbarazzante so che di notte ve la svignate e allora? non puoi certo rinchiudermi qui voglio solo che tu sia consapevole del rischio che corri te lo dico io mamma cos'è poco buono questa cazzo di apocalisse ok? vivere è un rischio cerchiamo solo di divertirci un po' in questo buco di merda sai magari ora le iene ti sembrano uno spasso ma ti molleranno subito se non avranno qualcosa in cambio da te senti scorte vicine ritraggiatrice all'asserto andiamo razioni vicine manOP ห� scorte rilevate 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 ok 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 scorte rilevate 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 Grazie. Noi dove si oooch oh c'è 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 è stato caricato Grazie a tutti Unico 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 Grazie a tutti. 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 Andiamo a prendere questa cassa. Ecco. Ok. Nuo livello. Allora... Allora... No. No. Ok. Ok. No. 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 30 granate una granata in più tre granate buono cerchiamo qualcosa da uno ok non ho più niente ciao ho l'inventario più grande in tutta DC piacere di vederti roba di qualità giubbotto 1.000 questo è interessante però non c'ha c'ha solo il colpo critico 173 io ho soldi la maschera 574 livello 9 21% danni agli elite non è male a questo spero di fare ancora affari con te grazie per aver comprato felice di aver concluso l'affare grazie a tutti 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 vi 치 a5 606 corazza Questa mi da 606 corazza No, metto questo, l'ho comprato inutilmente, mi sarà un altro L'ACM Cosa posso fare per te? Bello trattare con te, agente Beh Si conclude qui questo video, abiti, vediamo l'ho beccato Dov'è? 3 qua, il cappello uguale, 4 Casse Ma da comprare però Beh, casomai ricompro Bisogna vedere che abiti sono poi Cosa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 180. Grazie a tutti. Cosa dice qua? Al teatro servono nuove batterie per riattivare gli apparati di comunicazione. Potresti trovarne alcune all'ufficio dell'Odea. Vai lì e ispeziona l'area. Beh, questa la faccio col prossimo video. Ciao a tutti, grazie per la visione e chi vede. Ringrazio tutti e chi si iscrive lo ringrazio. Io cerco di collaborare con la mia iscrizione anche nel suo canale. Ciao a tutti.